Allora l'altro giorno ho messo un video dove facevo vedere lui che per un paio di minuti ha fatto dei dolcetti ma non ho spiegato bene né cosa ho fatto né cosa non ho fatto allora ho deciso di rifarlo, era un compitino che doveva fare il piccolo e doveva fare una sorta di rose del deserto con cioccolato e cornflakes ok abbiamo preso cornflakes, cioccolato ovviamente lo fondete voi, non i bambini tutto quello che servirà in più è una forchetta, un cucchiaio dei contenitorini da porre in frigorifero il bambino spiccia il cioccolato fino a renderlo bello non troppi mettiamo i cornflakes, vai gira non troppi stavolta devo mettere il flash perché sennò non si vuole dovrà risultare più pieno di cornflakes, tutti comunque fatti di cioccolato non dobbiamo avere cioccolato dai gira amore hai tutte le mani e lui fa così, non ti preoccupare è un bel passatempo dai gira amore i dati freni puoi andare avanti, facciamo il video dai fermati coltino l'altra volta avevo usato anche i cornflakes, quelli al cioccolato dipende da quelli che avete usati dai bastano così no di più, sennò dopo il solo cioccolato ma non li vedi schiacciare dai girate vedete che guarda fagli vedere che i cornflakes si avvolgono di cioccolato vedi questi gialli non si devono più vedere devono essere fatti tutti di cioccolato dai girali dai che si è forte guardalo bravo guarda vedo ancora cioccolato sciolto sotto quindi dovremmo metterne ancora dai guarda no mi fanno ma sembra non si è croccante non devi romperli però sennò non vengono le rose ma che qui stanno scendo gira bene si do una mano vedo che sento fatica no bravissima vedi che sto venendo fuori tipo petali di rosa dai niente flash da fastidio effettivamente e se no non si vede dai ancora qui sono gialli io direi che vai gira bene marroni ma non li vedi spattati questo lo tengo io guarda che questi sono ancora un po' giallini fanno passare bene il cioccolato perché vedo se l'hai mosso anche sotto posso vediamo se l'hai mosso bene il cioccolato ok bellissimi bravo le ha fatti proprio bene adesso mettiamo via la forchetta ciao qui dentro e prendiamo uno di questi io li sono sono di plastica quindi si usano nelle cucine aspetta no allora guarda prendi un mucchietto su un cucchiaino e lo metti in un angolino li dobbiamo mettere tutti separati separati dai fai no di più ancora metti alzati da qui che lo vedi meglio ma non lo devi mettere fa niente li prendi bene Dominic ok mettine ancora un pochino un po' magari proprio pochi pochi i nostri bimbi faranno la stessa cosa il cioccolato non dispiace nessuno aspetta eh non ne svegli ogni video è la tua vaccina eh vai dai anche qui un po' anche qui un po' eh se ne metto uno qui? anche qui un po' basta diventa troppo grande dai bravo vai avanti ok qui basta vuoi fare un altro qui così dai Dominic fattini ancora qua lo sta diventando troppo grande allora basta fa niente vanno già bene quelli ma ne fanno un altro qui 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 dai è uno qua ancora un po' qui dai 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 d'angolino bravo adesso qui ok ricordati uno in mezzo anche bravo adesso uno qui ah sono troppo grandi non riusciamo neanche a mangiare perché sono troppo grossi e poi diventano troppo duri qui ok e uno lì ne facciamo uno qui domini che cominciamo a metterlo in frigorifero questo dai di solito in giro di un'ora il cioccolato si raddensa e diventano già belli croccanti li possiamo passare quindi dopo si staccano da soli quindi li passiamo dentro una cioccolina ok adesso bravo basta fermati tu amore adesso va avanti la mamma no e finisci tutti no ah vai avanti tu dai dai il cioccolato va tutto avanti io perché va bene spera uno lo faccio io gli lo faccio posso farlo gli lo vedo anche io così capiscono bene il dosaggio come si mettono allora guardare così guarda anche tu la mamma che così dopo l'altro lo fai bene eh e non tagli niente ma diventi uno chef un master chef vedi non sono grandissime è proprio la misura di un cucchiaino prima voglio finire una riga un'altra e poi un'altra certo tu guarda questo è il senso è bellissimo devi mettere poco ecco adesso l'altra lo fai avanti tu aspetta la mamma ti fa subito come vedi si ma adesso ne prendo ancora se ti serve se ti serve un po' avevamo le uova di cioccolato da far fuori dalla videocamera sembra non sembra che ci sono dentro i cereali ecco qua dai domi vieni questo dovrebbe essere il risultato finale ok dopo dominic questo adesso finisci questo e poi te li prendo io che lì ci sono cose che ti puoi far male dai vai avanti per sedere dominic che va avanti il migliore devi stare in piedi eh sì stavo facendo la panoramica ok frigorifero ovviamente dentro il frigo finché diventano duri bravo dai così non ci accorace bravo bravissimo vedi che sei capace dai bravo 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 si toccheranno va bene si possono sempre ascoltare vai uno qui ok e non così vai così vai avanti non fare il maialino il maialino dopo facciamo un video con gli animali è vero? così impariamo anche i versi degli animali io li so tutti e la mamma non li sa tutti maiali già lo scopriremo nuovi la tigre ho fatto merenda per oggi ecco una bella strusciata sulle maniche non farne tante su uno fai un altro adesso ciao 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 allora mettiamo in pausa ci vediamo dopo quando abbiamo finito tutti ok così vi faccio vedere come sono venuti eccoci qua i nostri cioccolatini sono finiti stacchiamoli che facciamo vedere come sono venuti muori dai 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 un cereale sì questa è la forma giusta della rosa ok e adesso sono fatti vedete sarà passato circa un'oretta da quando li ho messi dentro sono già anche venute pronti no lo faccio io questo lo faccio da solo dai dai se no si sciolgono perché ci sono già attaccati dai questo lo staccate dai questo lo so adesso ecco qua quello mangio perché l'hai attaccato dai fai vedere mangione uno dai no questi mangiare eccoli pronti mangiamone uno chi lo mangia uno io per primo mangiamone uno ecco che buoni vero sì come sei bravo mettilo in bocca questi sono comunque i nostri dolcetti dolcetti finiti e buonissimi buoni dolcetti anche a voi e buon divertimento per i vostri bambini ciao ciao vediamo 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 vediamo